raccontare questa storia si faccio una confessione che c'è un articolo che non ho voluto scrivere devo dire sul Corriere della Sera il Corriere della Sera non c'entra nulla neanche sapevano che ci stavo lavorando ma insomma io sono appassionato di dati e guardando i dati della mortalità infantile in Grecia mi sono accorto che facendo tutti i calcoli diciamo con la crisi sicuramente sono mortalità infantile sono purtroppo i decessi di bambini dagli 0 ai 12 mesi di età sono morti in Grecia 700 bambini in più di quanti ne sarebbero morti se la mortalità infantile fosse rimasta quella di prima della crisi dunque la crisi e il modo in cui è stata gestita la crisi in Grecia ha avuto questo effetto drammatico e devo dire ci sono altri dati che confortano questa mia conclusione perché purtroppo si vedono i bambini nati sotto peso e altri aspetti del genere e ho deciso di non scrivere ho deciso adesso nel libro lo scrivo e lo racconto in dettaglio perché hai deciso di non scriverlo allora perché ti sei pentito di non averlo scritto ho deciso di non scrivere perché il dibattito in italia è così avvelenato tra anti europei che sono pronti a usare qualunque materiale come una clava ma non solo contro l'europa contro quello che l'europa rappresenta l'europa rappresenta un principio di democrazia fondata sulle regole e sulle istituzioni dunque usare come una clava qualunque materiale contro la democrazia fondata sulle istituzioni e sulle regole istituzioni anche indipendenti dal potere esecutivo da un lato e dall'altro gli anti europei che appunto come dicevo prima rifiutano di affrontare questi argomenti dunque mi sono detto se scrivo questo vengo strumentalizzato dagli uni gli anti europei e in qualche modo ostracizzato dagli altri e la sostanza del problema si perde e dovrei passare il tempo a difendermi da attacchi assurdi sui social network e non sui social network ti ricordo che sono stato persino denunciato in procura da un senatore della maggioranza dunque per dirti il clima di oggi mi è passata la voglia ed è un grande peccato e credo spero di essermi come dire un po ripreso ripreso dedicando un capitolo a questa vicenda